La Commissione regionale per le pari opportunità è da oggi pienamente operativa. L'elezione a Presidente dell'Avvocato Maria Franca D'Agostino e del Vice Rosa Pestilli, avvenuta questa mattina nella sedia del Consiglio regionale dell'Abruzzo, riconsegna alla Regione uno dei luoghi di democrazia e diritto più sensibili in ambito sociale. L'insediamento della Commissione è stato possibile dopo l'elezione dei 12 componenti avvenuta in Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre scorso. I lavori sono stati aperti dal saluto del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell'Assessore Nicoletta Verì. L'augurio di buon lavoro è arrivato anche dalle quote rosa dell'Assemblea regionale le consigliere Sabrina Bocchino, Sara Marcozzi e Barbara Stella. Il nuovo Presidente della Commissione pari opportunità ha ricevuto la garanzia di collaborazione del Presidente uscente Gemma Maria Andreini, che rimane membro dell'organismo.